Non si ferma il caldo in questa estate rovente. Anche dopo ferragosto le temperature sono in rialzo con picchi che raggiungono i 37 gradi, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Oggi sono tre le città segnalate dal Ministero della Salute con il bollino rosso, Firenze, Bologna e Brescia. Il caldo si fa sentire anche in montagna, dove bisogna salire almeno fino a 4000 metri per trovare zero gradi di temperatura. Gli effetti dell'anticiclone africano favoriscono anche nella seconda parte d'agosto un'ulteriore intensificazione dell'AFA che provoca forti temporali soprattutto in Piemonte, Lombardia, lungo l'arco alpino e nei lievi dell'Appennino. Acquazzoni che non contribuiscono a far calare la colonnina di mercurio dei termometri. In molte città del nord si passa dai 34 gradi di Bolzano sino ad arrivare ai 37 di Firenze, i 35 di Bologna e i 32 di Milano e Venezia. Napoli 30 gradi. A sud infatti la situazione è nella norma grazie al vento di maestrale che rende la canicola meno opprimente lungo la costa adriatica e ionica. In Sardegna spira invece lo scirocco, portatore d'aria calda dall'Africa del nord.